invece nella capitale. Ma le differenze con la Lega di Salvini a livello nazionale sono molto chiare e molto evidenti. Su Milano è accaduta una cosa importante. Attraverso un candidato si vota per un sindaco e quindi si sceglie una persona che può fare bene il sindaco. Stefano Parisi ci si è rimessi insieme dal nuovo centrodestra alla Lega. Quello a cui noi non stiamo è al giochetto di dividere il sottoscritto con Alfano. L'avventura che abbiamo fatto con il nuovo centrodestra. La nostra proposta politica è molto chiara. Noi vogliamo ricostruire un'alternativa al Partito Democratico e alla sinistra che parta non dai populismi ma degli estremismi ma da posizioni moderate che hanno sempre rappresentato la storia prima di Forza Italia e poi del Popolo e della Libertà. Questa è la strada. Se Milano potrà essere un laboratorio lo vedremo. È evidente che il giochetto a dividere Alfano da Lupi e Lupi d'Alfano è un giochetto che non ci piace. Abbiamo interesse a vincere a Milano e Milano potrebbe diventare un grande esperimento. Questa è la ragione per cui noi abbiamo aderito. Ci stiamo e ci giocheremo in particolare il sottoscritto in prima persona su Milano.